Sono Eliana Stefanoni e sono qui per parlarvi del CAS Empowering Skills, che è un CAS che si occupa dello sviluppo delle competenze soft o competenze trasversali, cioè tutte quelle competenze che non sono specifiche di una professione, di un mestiere, ma che in qualche misura noi adoperiamo all'interno della nostra attività quotidiana. Trovate quindi tematiche che possono essere l'utilizzo della leadership, l'abilità di conduzione, l'intelligenza emotiva, la gestione delle negoziazioni o dei conflitti. Quelle competenze insomma che raccontano un po' come noi costruiamo il nostro ruolo all'interno della nostra carriera professionale. La caratteristica che rende unico questo percorso è il fatto che è dotato di un'estrema flessibilità. Ogni semestre vengono prodotti dei calendari e il partecipante ha la facoltà di scegliere in buona parte come costruire il suo piano di sviluppo, supportato dal responsabile quindi in questo caso da me. Perché è questa scelta? Perché persone che lavorano e sono attive nel mondo del lavoro diamo per scontato che abbiano maturato delle competenze e probabilmente fatto anche altre formazioni sia all'interno della loro azienda che all'esterno. Perciò possono avere la necessità di approfondire specificatamente alcune tematiche e non altre. In questo senso una formazione flessibile permette di andare a creare un focus mirato proprio su quello che sono le esigenze della persona. Questo corso è rivolto fondamentalmente a chiunque abbia voglia di approfondire la propria professionalità e abbia voglia di costruirsi all'interno del proprio percorso di carriera. Non offre quindi specifici sbocchi su specifici mercati ma permette di ampliare le proprie competenze professionalizzanti. Aspetto di conoscervi per ulteriori informazioni rispetto a questo corso.